La seguente testimonianza è tratta dal libro di padre Carmelo Durante da Sessano intitolato Testimonianze su padre Pio. Nel video precedente abbiamo parlato del primo incontro tra padre Pio e padre Carmelo da Sessano. Nella testimonianza di oggi padre Carmelo ci racconta del primo colloquio avuto con padre Pio che lui stesso definisce la chiave di volta dei suoi rapporti con il padre ed ecco cosa ci racconta padre Carmelo da Sessano. Come ho detto prima io ero avvilito, ero demoralizzato, sentivo in me un grande peso da portare perché i santi, dirò dopo, sono difficili. Essi volano mentre noi poveretti stiamo con i piedi per terra e non è facile volare ma essi volano e credono che anche per gli altri sia facile volare. Padre, disse in quel colloquio, io sono venuto qui non come suo superiore ma come suo figliolo. Solo a questa condizione sono venuto. Voglio fare quello che lei mi dirà e non altro. Come superiore però la prego di una cosa sola, di dirmi sempre quello che le fa piacere o dispiacere. È questa la grazia che le chiedo. Ed egli, tutto premuroso, egli che sentiva forse nella sua anima le vibrazioni della mia anima sconvolta mi disse ma sì figlio mio, stati tranquillo, stati tranquillo, ma io non mi tranquillizzavo. Padre, continuai, se in me comincerà il dubbio, forse il padre non è contento di me, forse non mi dice la verità per convenienza, forse soffre per me e non me lo dice. Di fronte a questo dubbio io non avrò più pace. E il padre mi disse ma no, no figlio mio, stati tranquillo, lavoreremo insieme. ed aggiunse altre parole di conforto. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!